Ciao a tutti, sono Elisa e ho 28 anni. Sono molto contenta di condividere con voi la mia esperienza con Taopache, in quanto nel mio caso mi ha assolutamente migliorato la qualità della vita. Ho approcciato la prima volta con Taopache ancora tre anni fa, grazie a Emanuela Battaggia, operatrice Shatsu. Mi sono rivolta a lei perché fin dall'adolescenza soffrivo di forti attacchi di micrania, che mi costringevano ad assumere almeno due o tre volte alla settimana, sia anti-infiammatori che antidolorifici. E almeno uno o due volte al mese avevo episodi acuti di emicrania, che mi costringevano a letto, al buio, e molto spesso anche i farmaci che assumevo anche in quel caso non avevano molta efficacia. Da quando appunto Emanuela mi ha spiegato dove applicare i patch, devo dire che la qualità della vita mi è assolutamente migliorata. Io ho notato subito dei miglioramenti da lì a pochi giorni. Adesso sono veramente contenta perché non assumo più farmaci, in quanto non ho più episodi di emicrania. Devo dire che i Taopache mi sono serviti moltissimo anche durante la gravidanza, perché mi hanno migliorato moltissimo i dolori che avevo alla schiena. E quindi ci tengo veramente tanto a ringraziare Emanuela Battagia per avermi fatto scoprire questa tecnologia, Taopache, e soprattutto voglio ringraziare la Tau Technology e soprattutto il dottor Fontana per aver inventato questa tecnologia davvero così innovativa e soprattutto efficace. A me ha cambiato veramente la vita in positivo e spero che questa testimonianza possa essere davvero aiuto a qualcuno. Ciao!